Ciao ragazze, ciao ragazzi, come ben sapete io di solito la notte non dormo, filmo video infatti sono le 2.36, a parte che sta per morirmi il telefono, non ho più batteria, sono le 2.36 io stavo per andare a dormire e poi mi sono detta ma no, filmiamo un altro video perché ho filmato l'on-tour fino a poco fa ma non ho sonno e quindi ragazzi faccio quello che mi riesce meglio a questo punto di notte, filmare video quindi era da un po' che non facevo un video a Nicole risponde in cui rispondo alle vostre domande vi ho chiesto un po' di tempo ormai di lasciarmi le vostre domande, qualsiasi domanda o curiosità voi abbiate su Instagram e le osservate e adesso risponderò come al solito alcune sono sulla mia vita privata, altre sono un pochino più easy la prima è iniziamo boom subito con una delle domande più ricorrenti perché me ne sono arrivate a centinaia e centinaia e centinaia e sono tutte uguali quindi devo per forza rispondere nonostante penso di aver già risposto più o meno questa domanda però mi viene fatta tantissime volte possibile che non ci fosse proprio nulla da salvare con Tomas e se ci fosse stato qualcosa da salvare lo avrei salvato sono una che persevera molto specialmente quando crede in qualcosa sono una che molla facilmente anzi se sapete un po' di me sapete che la relazione precedente che è durata quasi 14 anni io l'ho trascinata per tanto, troppo tempo e non avrei dovuto quella relazione mi ha insegnato che molto spesso, spero non vi è troppo fastidio questo rumore che è il condizionatore ragazzi ma fuori ci sono tipo 46 gradi all'ombra quindi devo per forza tenerlo acceso, so che dà un po' fastidio, spero non tantissimo se appunto mi conosce sapete che la relazione precedente che è durata quasi 14 anni l'ho trascinata anche troppo e questa cosa mi ha fatto, nella vita si imparano molte cose, molte lezioni e io con quella relazione tra le tantissime cose che ho imparato ovviamente ho imparato anche che se una cosa non funziona non devi trascinarla che sia una relazione, un'amicizia, tutto nella vita se qualcosa non va, non funziona, non trascinarla perché perdi soltanto tempo pazienza, energia, tanta tanta energia, rabbia, discussioni eccetera eccetera quindi no, se ho deciso di terminare quella relazione evidentemente non c'era assolutamente più niente da salvare e non c'era nessun dubbio, tant'è che io adesso sono molto felice con Eric cioè quindi no, sicuramente no, per me è normale il fatto che mi vengano chieste queste cose perché io sono la prima a condividere la mia vita con voi quindi so che cosa vuol dire essere curiosi eccetera eccetera e spero di aver risposto insomma per l'ennesima volta ma no, non c'era assolutamente nulla da salvare io sono appunto una persona che tende anche a farsi anche troppi problemi quindi se io arrivo ad una decisione e non ci metto di solito poco tempo io per arrivare a una decisione cioè sono una che pensa e ripensa a tutto ma quando prendo una decisione quella è cioè non cambio mai, mai, mai idea e quindi so che se sono convinta di qualcosa se decido qualcosa so che per forza non c'è più modo di ritornare indietro e così è stato insomma quando ho chiuso tutte le mie relazioni perché bene o male la prima storia che ho avuto di un anno prima di Neil l'ho terminata io e sapevo che era la cosa giusta la relazione con Neil l'ho terminata appunto dopo così 14 anni dopo aver ponderato per anni e sapevo che dovevo farlo già da prima per i grossi problemi che c'erano eccetera eccetera e quando l'ho fatto mi sono pentita solo dal fatto di non averlo fatto prima nonostante poi tutte le cose anche buone di ogni relazione ovviamente che io non dimentico mai e la storia con Tomas anche quella avrei dovuto terminarla prima per le cose di cui io mi ero già accorta e cose che non avrei dovuto lasciare passare ma l'ho fatto è stato uno sbaglio e ovviamente gli sbagli li paghi però almeno non ci ho messo 14 anni stavolta però ecco questo è di solito non prendo le decisioni facilmente ma quando le prendo so per certo che sono quelle giuste non tornerei mai indietro poi allora se potessi parlare alla Nicole del passato cosa le diresti? dipende a quale Nicole del passato per esempio se dovessi parlare alla Nicole delle scuole medie vorrei dirle che che il bullismo esiste che non sono l'unica perché all'epoca non sapevo comunque il sorsetto di Coca Zero ragazzi per fare un po' quasi un po' l'atmosfera mukbang chiacchiere tra di noi forse per questo che alle 2 e mezza di notte 2 e 42 di notte io non lo sono perché bevo Coca Zero comunque dipende appunto se dovessi parlare a Nicole delle medie le direi che il bullismo esiste perché appunto all'epoca non aveva un nome o almeno io non ero il corrente di non sentirmi l'unica persona l'unica ragazza al mondo con questo problema direi che se questa cosa ti sta succedendo non è un problema tuo ma è un problema di quelli che ti perseguitano se invece dovessi rivolgermi alla Nicole delle superiori le direi che tutto si supera che anche quello che ti sembra insuperabile tragico a lungo andare ti renderei conto che non lo è come ad esempio una storia che magari ti fa stare male sappi che non starai male per sempre sappi che non è la fine del mondo sappi che nonostante ci possano essere persone cattive sei tu a decidere che cosa gli permetti di farti sei tu a decidere che cosa tolleri che cosa non tolleri e di essere forte perché se non anzi direi di non preoccuparti perché se anche pensi di non essere forte in futuro ti renderai conto che invece lo sei e lo sei tantissimo ah mamma mia è quasi emozionante veramente dire queste cose perché cavolo se potessi tornare indietro lo farei veramente cioè vorrei tanto poter parlare alla Nicole di 10-15 anni fa e dirle tante di quelle cose ma la vita le esperienze servono proprio a imparare quindi sarebbe un po' imbrogliare tornare indietro nel tempo e dirmi determinate cose perché devi viverle e quindi però cavolo sì ecco perché tante volte una sorella più grande o le tue amiche possono aiutarti perché o anche solo parlare con qualcuno ti può aiutare perché magari qualcuno c'è passato prima di te ti può consigliare così come io appunto vorrei poter fare con la me del passato bella domanda questa comunque se invece dovessi parlare alla Nicole di un paio d'anni fa le direi che ci sono lupi travestiti da pecore e che non tutti quelli che dicono di volerti bene te ne vogliono davvero di non fidarti perché fidarti è bene e non fidarti è meglio poi un buon fondotinta da consigliarmi allora questa domanda viene fatta sempre io al momento sto usando il nudissimo se non sbaglio nudissimo di Diego Della Palma è l'ultimo fondotinta uscito lo adoro lo indosso anche oggi lo amo se no c'è il Hello Happy di Benefit che però come sottotono è un pochino troppo giallo ma è un ottimo ottimo fondotinta ottima resa su di me e poi mi piace anche l'ultimo di Dior però adesso mi sfogge il nome però forse un pochino troppo coprente per l'estate poi cosa ne pensi di chi dice che Eric somiglia a Tomas allora questa domanda almeno in parte credo di aver già risposto nel senso inizialmente devo dire la verità mi ha dato molto fastidio perché quando chiudi una storia non vuoi che ti venga costantemente ricordata quella persona d'altronde però io ho condiviso tutto di me su internet e quindi tre anni e passa di relazione con Tomas sono stati tutti su internet quindi è ovvio che quando io ho un nuovo fidanzato è ovvio che la gente automaticamente vada a fare paragoni con il mio ex purtroppo è umano cioè è una cosa normalissima ok è umano e penso inconsciamente di farlo anch'io magari con gli youtuber che seguo quindi ecco vi capisco anche molto meglio di quanto pensiate d'altra parte però uno perché uno è biondo con gli occhi azzurri l'altro è moro con gli occhi nocciola sarà però anche che io comunque eric lo conosco dall'asilo dall'elementari quindi per me lui è eric cioè io ho conosciuto molto prima lui di tutti gli altri ragazzi della mia vita praticamente quindi cioè per me lui è lui e quindi non posso dire gli assomigliano secondo me non gli assomiglia per niente altrimenti non me lo sarei scelto però alcuni dicono di sì e quindi non lo so penso che sia un po' un pensiero cioè nel senso se inizialmente mi dava fastidio adesso non mi dà più fastidio forse perché da quando ho concluso la mia relazione precedente sono passati tipo nove mesi dieci mesi cos'è da settembre quindi insomma è passato un bel po' di tempo quindi no adesso non mi dà più nessun fastidio anche se non vedo sinceramente non vedo questa assomiglianza cioè non la vedo proprio penso solo nel taglio di capelli però è un taglio di capelli talmente diffuso che cioè non lo so secondo me no però posso capire insomma se mi dite di sì ecco ognuno ha il proprio pensiero personalmente non vedo la assomiglianza ma non è un problema se se mi viene detto o se lo vedo scritto nei commenti ecco poi eric cucina bellissima questa domanda eric cucina ma sì ti devo dire che eric cucina e per tutti i mesi che praticamente sono sempre stata solo a casa sua tipo tanto praticamente cucinava sempre lui a volte assieme ma comunque per la maggior parte del tempo ovviamente lui ed è molto bravo fa i pesce fa vabbè l'altro giorno abbiamo fatto la pasta fredda vabbè quella la facevo comunque anch'io la carne la fa molto bene la pasta di gamberetti viene molto buona però sì devo dire che cucina insomma se la cava comunque meglio di me non che ci voglia molto però devo dire di sì 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 non è niente male niente male potrei quasi quasi approfittare e far cucinare sempre lui poi allora sushi o mcdonald beh sicuramente sushi cioè non c'è storia proprio allora mcdonald a volte mi prende quella voglia irrefrenabile di mcdonald e devo assolutamente mangiare il fish filet mcnuggets patatine cioè è proprio io da quanto sono nata io ho le voglie ok io vi dico solo una cosa quando mi hanno operato d'ernia avevo tipo tre anni uscita dalla sala operatoria mi sono svegliata ed ho iniziato a chiedere un panino alla mortadella e io avevo voglia nello specifico del panino di mortadella che ovviamente loro non mi hanno dato e mi hanno dato tipo una tazza di tè senza zucchero con due biscotti schifosissimi però io ho le voglie a volte mi prende la voglia di mcdonald a volte ho voglia di prosciutto crudo devo assolutamente avere il prosciutto crudo altre volte ho voglia di pizza e devo assolutamente mangiare la pizza altre volte la maggior parte delle volte ho voglia di sushi e devo assolutamente mangiare sushi e a volte mi capita anche di avere questa voglia pazza del mcdonald che mi rendo conto non sia cosa sanissima e non riesco a convincere eric tuttora ad andare al mcdonald ma prima o poi ce la farò magari documenterò il tutto per voi e però tra i due se devo scegliere assolutamente sicuramente sushi cioè io mangerai sushi ogni giorno poi sei davvero innamorata di eric domanda impegnativa questa sì ti rispondo subito di sì e sono molto innamorata di eric vabbè questo già ve l'ho detto e già ho espresso i miei sentimenti per lui quindi non lo nascondo ma sì sono molto abbastanza persa e cotta e però a parte di scherzi con lui ho un rapporto che è molto profondo un rapporto che non ho mai avuto nelle mie storie precedenti forse perché le altre persone erano parecchio diverse da me i miei ex erano molto diversi caratterialmente da me eric invece è molto simile a me quindi per tantissime cose siamo entrambi persone molto sensibili forse troppo un po' tutti e due e quindi ci capiamo ad un livello che in cui gli altri non mi hanno mai capito e tutto con eric lo sento sento tutto molto di più e tutto più le emozioni forti sono le più forti che ho mai avuto quando mi batte il cuore non mi è mai battuto così forte le parole che riesco a dirgli le cose che gli ho detto le cose che ha detto lui a me non le abbiamo mai dette in passato non le abbiamo mai provate in passato sono tutte cose che mi fanno capire che se sto con lui è perché dovevo dovevo stare con lui in questo momento della mia vita e sinceramente desidero starci per sempre con lui perché è una persona comunque che lo sapete ve l'ho detto per me è una persona meravigliosa eri per me speciale quindi forse anche per il fatto che comunque ci conosciamo da quando siamo piccolissimi perché io sono stata in asilo a due anni e poi ho fatto con lui appunto tutto l'asilo tutte le elementari fino a quando fino ai dieci anni poi ho finito cioè poi abbiamo cambiato scuola poi non ci siamo mai più rivisti fino all'anno scorso quindi insomma è interessante questa cosa ma forse anche grazie a questo riesco ad avere una confidenza con lui che comunque nelle altre storie per lo meno da subito non sono riuscita ad avere con lui appena l'ho rivisto non lo so sono cose difficili da spiegare perché è a pelle e con lui è tutto più forte tutto più profondo uso molto questa parola profondo perché quello che trovo per lui è qualcosa che mi viene proprio da dentro sono sensazioni bellissime che non avevo mai provato e quindi ma probabilmente ogni storia ti insegna qualcosa di nuovo ogni storia che hai è qualcosa che non hai mai provato prima proprio perché comunque vai a cercare la persona giusta e quindi basta divento troppo mielosa troppo troppo romantica e poi mi emoziono però sì poi vabbè magari nei video lo capirete meglio anche voi imparerete a conoscerlo meglio anche voi lui ovviamente lavora molto quindi è difficile che si veda tanto nei miei video ma proverò a convincerlo fare qualche video in più mi chiedete sempre di fare video con lui quindi proverò a convincerlo e magari filmeremo qualcosina in più insieme magari qualche mukubank me li chiedete in tantissimi però sì sono molto felice e sono molto felice anche del fatto che finalmente siamo andati a vivere insieme perché abbiamo fatto un sacco di mesi ragazzi che io praticamente abitavo da lui però avevo tutte le cose nell'altra casa poi con il trasloco è stato veramente un casino e sono felice che finalmente stiamo assieme e insomma abitiamo insieme quindi è tutto molto più semplice diciamo e niente sì pensare a lui mi rende felice quindi questo penso sia la cosa più importante poi hai mai fumato nella tua vita? sì c'è stato un periodo non che io sia fiera ma sì c'è stato un periodo in cui fumavo prima perché praticamente mi offrivano le sigarette i compagni le compagnie di scuola poi ho iniziato a comprare i pacchetti e poi ho anche smesso di comprare i pacchetti per fortuna oh gatto max gatto max è entrato gatto max apriamo le porte così vabbè lasciamola aperta poi vorresti un giorno diventare mamma vabbè certo è ovvio che lo vorrei quando il momento sarà quello giusto sicuramente sì sicuramente è una cosa che voglio come donna certo è una ma gatto max gatto max ci intruffogliamo così nei video ci intruffogliamo così ma guardalo ma guardalo e quindi sì sicuramente sì è un sogno che ho e voglio sicuramente realizzarlo poi due domande che sono praticamente uguali ti risposeresti hai mai pensato di sposarti di nuovo allora anche questa è una domanda che mi viene fatta molto molto spesso ti risposeresti me lo chiedi nel senso se tornando indietro lo rifarei no tornando indietro non lo rifarei è ovvio che è stato un errore anche se non esistono errori nella vita non tutto succede per una ragione ho il senno di poi però è ovvio che visto che comunque mi sono anche separata dopo ovviamente non lo rifarei in futuro se penso di sposarmi di nuovo non lo escludo assolutamente perché comunque quello che voglio è sposarmi ed avere dei bambini però non vi nascondo che è comunque adesso un discorso che prenderei molto più con le pinze rispetto magari a non che io l'abbia presa con leggerezza però diciamo con più consapevolezza ecco diciamo così però non è una cosa che escludo però sicuramente è qualcosa a cui devi pensare molto molto bene non che io non l'abbia fatto ma forse quell'esperienza mi è servita proprio per andare con i piedi di piombo nel senso che il matrimonio non è una cavolata e poi per sbrogliare il tutto neanche quello è una cavolata quindi quindi sì sicuramente lo vorrei ancora e non escludo che possa succedere insomma per essere sinceri perché se sentivi che il matrimonio era sbagliato sei andata avanti bella domanda sai che non so risponderti dovrei cioè dovrei andare da un analista e chiedergli ma perché se il matrimonio sentivo che non andava io cioè perché se sentivo che il matrimonio era sbagliato io sono andata avanti non lo so è un problema che ho ricollegandomi al fatto di cui parlavamo prima io tendo a portare avanti e a trascinare le cose che non funzionano è la stessa identica cosa che ho fatto con la mia storia precedente 14 anni vabbè l'ho trascinata troppo diciamo stavolta almeno l'ho trascinata per 14 anni però diciamo che già nel primo anno mi ero resa conto che c'erano diverse cose che stonavano avete presente quei piccoli grandi in realtà campanellini di allarme ehi Nicole attenta no 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 e tu decidi di ignorare il tutto perché sei una sognatrice romantica sei innamorata persa e sei anche un po' cretina beh ecco questo è stato un po' cegato Max qua dietro che non so che cosa stia facendo ginnastica praticamente quindi sì questo è quello che è successo probabilmente sì per questo perché ero romantica perché sono romantica innamorata e un po' cretina per questo l'ho trascinata non consiglierei ovviamente di rifarlo d'altronde evidentemente questa era l'ennesima lezione che io dovevo affrontare imparare nella mia vita quindi sì questo è in realtà non era tanto il matrimonio che era sbagliato anche se le cose sono molto peggiorate dopo che eravamo già sposati forse la troppa sicurezza da parte di lui per il fatto di essere sposati però in realtà già da prima di sposarmi avrei dovuto capire che non che dovevo terminarla la relazione e non sposarmi però ripeto innamorata cretina prosciutto sugli occhi eccetera eccetera poi una domanda che mi viene fatta spesso e ho cercato di evitare fino adesso com'è il rapporto con tuo padre perché vi siete accorti che non parlo di mio papà non si vede mio papà eccetera eccetera non più perlomeno il rapporto con mio papà è un rapporto difficile non voglio addentrarmi più di tanto ma è una delle persone che per il momento ho deciso di non vedere per motivi che non mi soffermerò almeno oggi non me la sento è una persona che ho deciso per il momento di non vedere per il mio bene però appunto non mi va di addentrarmi in queste cose oggi però è una cosa che mi viene chiesta talmente tante volte e ho visto sì anche come dire supposizioni varie che tanto vale dirlo sì non non è per il momento non ho un gran rapporto per diverse cose che sono successe in passato non tanto passato nemmeno ma anche sì ma anche no e per il momento ho deciso così ecco magari un giorno ve ne parlerò se me la sentirò però per adesso non me la sento tantissimo poi Nicole ciao Nicole adoro troppi tuoi orecchini forse l'avevi già detto in qualche video ma non ricordo dove li acquisti allora alcuni di quelli che indosso sono di Maria Tash tipo l'ultimo qui con il diamantino quello che ho sul trago da quest'altra parte gli altri invece fanno parte della mia collezione scusatemi proprio sponsorship senza ritegno ma si trovano sono degli orecchini che ho disegnato io per la mia collaborazione con Jewel Candle per la candela che ho creato io e sono degli orecchini che si trovano all'interno di queste candele praticamente tu bruci la candela c'è questo profumo buonissimo di vaniglia caramello che appunto ho scelto io ho scelto il design della candela eccetera eccetera e poi ad un certo punto arrivi a scoprire un pacchettino all'interno della cera e all'interno ci sono appunto questi orecchini sono 17 modelli diversi che potete trovare quindi un po' una sorpresa non si sa nella mia candela Fairy Tale si chiama e si e si trovano all'interno di questa candela appunto sono argento placato oro 24 carati e se andate sul sito jewelcandle.com comunque slash it mi sa basta scrivere jewelcandle su google comunque la trovate magari vi metterò comunque il link qua sotto alla mia candela perché mi viene chiesto spesso riguardo i miei orecchini e sono tutti i orecchini che si trovano all'interno della mia candela ho fatto anche il video dedicato in cui ve li ho fatti vedere tutti altra domanda gettonatissima che devo assolutamente inserire da quando sto usando dei nuovi filtri per le foto su instagram praticamente mi viene chiesto spessissimo quali filtri sono come faccio a cambiare i colori farli tutti un po' più aranciognoli questo è il mio feed se notate appunto dalle foto di Gardner praticamente sono tutte un po' più aranciate o comunque hanno tutte un filtro particolare allora questi sono dei preset che io ho acquistato e sono anche abbastanza cari e sinceramente non mi va tanto di consigliarveli perché secondo me non è giusto promuoverli e vi spiego perché li ho pagati oltre 100 euro la spiegazione sono dei preset che vanno utilizzati su Lightroom quindi prima bisogna scaricare questa app che si chiama Lightroom che è a pagamento se già non ce l'avete e poi bisogna scaricare questi preset che appunto costano mi sa che li ho pagati tipo 150 euro che è tantissimo e non sono preset secondo me a parte alcuni che sono quelli che uso sempre non sono preset secondo me di grande qualità uno numero due ho avuto grosse difficoltà ad installarli perché il servizio offerto cioè la guida era una ciofeca tre ti danno solo un link per download non si può scaricarli dal cellulare ma solo dal computer non l'hanno specificato quindi il servizio che offrono non mi è piaciuto non mi sono trovata bene con alcuni dei preset offerti mi trovo bene però tipo con 4 su 50 e non voglio consigliarveli proprio perché secondo me non è un buon affare non a me piace consigliarvi le cose di cui sono entusiasta e secondo me questi preset nonostante appunto un paio siano carini non valgono in realtà però ovviamente se scaricate Lightroom potete giocare voi con la luminosità la saturazione il contrasto eccetera 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 e potete crearvi voi appunto il sottotono di colore eccetera eccetera lo scegliete voi e potete comunque creare un effetto simile però non sono dei preset pre-impostati ma sono dei preset che appunto io ho acquistato e e non sono dei filtri pre-impostati di un'app ecco questo è e non è photoshop che spesso mi vede io non so usarlo photoshop quindi non è photoshop se faccio qualche ritocco è con qualche app del cellulare ma non con photoshop perché proprio non ho non so usarlo e non l'ho nemmeno installato ok ultima domanda per oggi perché sono le 3 e 23 non sto nemmeno scherzando cioè 3 e 24 in questo momento ragazzi ti manca Amsterdam allora sì certo che mi manca per me è la città più bella del mondo ed è un po' l'unica città perché mi piace anche Parigi mi piace mi piacciono tante città ma non ci vivrei non ci abiterei mai ad Amsterdam ci abiterei ho adorato abitare in quella città adoro Amsterdam adoro i Paesi Bassi è un paese meraviglioso con persone meravigliose una delle mie più grandi amiche lo sapete di Melza l'ho conosciuta proprio ad Amsterdam adesso lei abita ad Alkmaar spesso vado a trovarla sicuramente il mio periodo ad Amsterdam sono stati 4 anni e mezzo che mi hanno fatto capire tante cose mi hanno aperto la mente per tanti fattori mi hanno fatto crescere mi hanno fatto diventare più indipendente specialmente poi quando ad Amsterdam ci sono rimasta da sola è stato un periodo molto importante della mia vita sicuramente mi manca molto spesso mi chiedete se vorrei tornare ad abitarci beh ovviamente mi piacerebbe molto io lo sapete ve lo dicevo prima sono innamorata di Eric e la mia vita è con lui e sono tornata in Italia già da inizio 2016 quindi la mia vita adesso è qui con Eric voglio insomma cerco anch'io comunque una stabilità nella vita e ho comprato casa qui a Trieste quindi da una parte sì Amsterdam mi manca dall'altra parte la mia vita è qui quindi certo non nascondo che se dovessi rimanere single dovessi restare da sola non mi nascondo che nei pensieri sicuramente mi verrebbe il fatto di prendere e tornare nei Paesi Bassi in questo caso penso che andrei ad Alkmar dove sta Demesa però ovviamente quello che desidero io per il momento è stare assieme alla persona che amo quindi non no non è una cosa che considero il tornare lì certo nella vita non si sa mai certo mi piace molto e ci ho lasciato il cuore in quella città la amo la adoro si sta bene e non vi nascondo che se non fosse stato per amore in realtà non ci sarei mai tornata in Italia probabilmente quindi questo è quanto ragazzi spero di aver risposto ad abbastanza domande mi sono un po' dilungata ma mi piace parlarvi della mia vita di come mi sento e quindi questi video chiacchierici sono sempre un po' così spero vi sia piaciuto comunque vi mando un bacio grandissimo mia femmine noi ci vediamo domani con un nuovo video mi sa domani? si vedrete questo video giovedì penso comunque si domani che è venerdì con un nuovo video bacio vi voglio bene mia femmine vi abbraccio fortissimissimissimissimo ciao ciao